Schock in casa Milan. Donnarumma non rinnova il contratto con la società rosso-nera. Lo ha annunciato l'ad Marco Fassone, spiegando che si tratta di una decisione definitiva comunicata dal procuratore del portiere Mino Raiola. La decisione di Donnarumma ci amareggia ma andiamo avanti, il Milan va avanti. Speravamo fosse il pilastro su cui costruire il nostro Milan dice Fassone commentando la scelta di Donnarumma di non rinnovare con il club rosso-nero. L'amministratore delegato e direttore generale del Milan ha voluto aggiornare i giornalisti subito dopo l'incontro con Raiola vista la rilevanza del caso sui media. Il dirigente ha ricordato l'offerta che il club aveva sottoposto al giocatore, il direttore sportivo Mirabelli, non più di dieci giorni fa, aveva sottoposto un rinnovo per noi importante al giocatore. In un incontro con Raiola a Monte Carlo, il Milan aveva offerto a Donnarumma un rinnovo di cinque anni per oltre quattro milioni a stagione. Ora siamo comunque confidenti di fare il meglio, il ragazzo ha preferito non accettare e comunicare che finirà la sua permanenza in rosso-nero fino al 30 giugno 2018.